Alcune risorse chiave per le batterie delle auto elettriche hanno scatenato una corsa alla distruzione di foreste primarie e fondali oceanici mentre si riaccende il dibattito sulla carne prodotta in laboratorio. Cerchiamo di approfondire entrambe le questioni e magari trarne qualche considerazione più generale. Prima però qualche fatto di cronaca dal ricovero di Silvio Berlusconi in terapia intensiva all'abbandono della presidenza del partito e in generale di ruoli istituzionali importanti da parte della premier finlandese Sanna Marin all'annuncio di Matteo Renzi, nuovo direttore del quotidiano Irriformista. Mentre in conclusione grazie al contributo di Tiziana Barilla vediamo cosa sta succedendo nei mondi del no ponte sullo stretto che si stanno riorganizzando dopo le ultime mosse del governo. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 6 aprile 2023 e questo io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! Ci sono diverse notizie importanti oggi ma sono più fatti di cronaca che non necessitano particolare commento al momento per cui direi che facciamo una carrellata iniziale per poi andare a soffermarci sull'argomento che vorrei invece approfondire che è quello che avrete letto nel titolo, ascoltatelo insommario quindi non ve lo sto a ridire qua. Comunque le notizie principali della giornata di ieri sono che Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per una sospetta polmonite dovuta a quanto pare a un'infezione non risolta, le notizie che filtrano parlano comunque di un Berlusconi cosciente, vigile che parla e ha iniziato la terapia antibiotica e in generale le cui condizioni sono stabili. Seconda notizia, la premier finlandese Sanna Marin sconfitta di recente alle elezioni ha annunciato che lascerà la presidenza del suo partito e farà un passo indietro nonostante sia in realtà ancora molto popolare in Finlandia. Ha detto che continuerà il suo lavoro di deputata e di primo ministro fino all'entrata in carica del nuovo esecutivo che probabilmente a quanto sembra insomma dalle ultime indiscrezioni non vedrà il partito dei socialdemocratici appunto quella che fino adesso è stata condotta da Sanna Marin all'interno della formazione di governo. Brevissimo commento, la casistica di premier donna che fanno un passo indietro sta diventando abbastanza numerosa, non ho dei dati esatti, non ho delle stime ma solo appunto una serie di casi che sono capitati uno dopo l'altro di recente e che rinforzano quella sensazione perché per adesso è effettivamente una sensazione personale che però forse vi ho già condiviso ovvero che molte donne interpretino certi ruoli di potere con un piglio diverso forse con più umanità e serietà. Matteo Renzi, scusate lo simoro involontario di accostare due parole come Matteo e Renzi ha subito dopo le parole umanità e serietà però sono due notizie diverse, dicevo Matteo Renzi è il nuovo lettore del quotidiano, il riformista, cosa che avvalora la tesi appena enunciata di qui sopra e che se da un lato forse non è una buona notizia per il giornalismo e per il mondo dell'informazione in generale, soprattutto questa commissione fra politica e informazione, certamente lo è per questo format perché ho il sospetto che potremmo fare un sacco di puntate di Trova il Bias. Va bene, chiusa questa rapida rassegna di notizie di attualità, entriamo a parlare di quello che è l'argomento più corposo e più interessante che mi piaceva affrontare assieme a voi oggi, ovvero il rapporto fra macchine elettriche, carne sintetica e transizione ecologica. Ora, come forse saprete, macchine elettriche, mobilità elettrica e carne cresciuta in laboratorio, carne sintetica in realtà è un nome inesatto, sbagliato per quella che viene definita tecnicamente carne cresciuta in laboratorio, sono entrambe soluzioni che stiamo sviluppando come genere umano, come società umana, per ridurre l'impatto di due settori fra i più inquinanti in assoluto, che sono quelli del trasporto e quello degli allevamenti intensivi e il consumo di carne. Ma quanto e a quali condizioni queste soluzioni sono effettivamente sensate? Ecco, sono usciti un po' di articoli e di studi che ci permettono di fare alcune riflessioni più ampie su questi due argomenti e se non vi dispiace, ma anche se vi dispiace lo direte troppo tardi, ma comunque nel caso ditemelo perché magari imparlo per la prossima volta, cercherei di trattare questi due temi e di tenerli assieme perché hanno alcuni parallelismi al netto di diverse differenze che sono interessanti e ci permettono di fare qualche riflessione un po' più ampia. Come al solito però parto raccontandovi le notizie, iniziamo con il tema delle auto elettriche. Saprete forse che uno dei principali problemi sono le materie prime che servono in particolare per le batterie o perlomeno per alcuni tipi di batterie che a loro volta alimentano o stoccano l'energia che serve poi a far andare il veicolo. Dominella Trunfio su Green Me racconta come la produzione di batterie per auto elettriche potrebbe portare allo sterminio del popolo Hongana Maniawa, oltre che alla distruzione di vaste aree forestali dell'isola di Halmanera in cui avviene l'estrazione di nickel. A denunciarlo è Survival International, il cui comunicato viene ripreso dall'articolo di Green Me. Survival International, che abbiamo citato varie volte qui su Neomirassegno, che è l'organizzazione che da anni è a fianco delle popolazioni indigene e che racconta in questo caso come in Indonesia un imponente progetto di estrazione di nickel rischi di spazzare via un popolo incontattato unico. Il progetto fa parte di un più ampio programma del governo indonesiano che mira a diventare un importante produttore di batterie per auto elettriche proprio grazie all'estrazione e alla fusione di nickel e di altri minerali. Un piano in cui compagnie internazionali come Tesla in prima linea stanno già investendo a quanto pare miliardi di dollari. Chi sono questi Hongana Maniawa? Hongana Maniawa è il nome di un popolo, un nome che significa nella loro lingua popolo della foresta, che è uno degli ultimi popoli di cacciatori e raccoglitori nomadi dell'Indonesia che oggi appunto rischia di vedere la propria terra e tutto ciò di cui ha bisogno per sopravvivere, distrutto da queste estrazioni. Secondo la legge internazionale queste attività minerarie sono illegali perché i popoli incontattati non possono dare il loro consenso libero previo e informato allo sfruttamento della loro terra, che è un requisito legalmente necessario per tutte le attività di sviluppo nelle terre indigene, ma questa cosa fin qui non sembra aver fermato le multinazionali e lo sfruttamento di questi terreni. E non si tratta neanche solo di foreste e popolazioni incontattate. Anche i fondali marini ad esempio sono sottoposti a stress e pressione per la ricerca di minerali che servono alla transizione energetica e di nuovo in particolare alle auto elettriche e alle loro batterie. Sul Guardian ad esempio Robin McKee racconta quello che emerge da un'indagine condotta dall'organizzazione ambientalista Fauna and Flora, secondo cui ci sarebbero prove evidenti che l'estrazione di minerali rari dai fondali profondi potrebbe causare danni estesi e irreversibili al pianeta. L'articolo dettaglia meglio questi danni estesi e irreversibili e si aggiunge alla crescente controversia che riguarda il cosiddetto Deep Sea Mining, ovvero l'esplorazione di fondali oceanici in cerca di minerali rari, fra cui il cobalto, manganese e nickel, che servono appunto sempre per la transizione energetica. Le compagnie minerarie vogliono sfruttare questi giacimenti fondamentali appunto per il settore delle energie alternative perché le riserve terrestri si stanno rapidamente esaurendo. Tuttavia, come spiega l'articolo, oceanografi, biologi e altri ricercatori hanno avvertito che questi piani causerebbero un inquinamento diffuso, distruggerebbero gli stocchi ittici globali e cancellerebbero gli ecosistemi marini. In realtà non è una cosa nuova fra l'altro, nel senso né che si stiano facendo queste esplorazioni marine né che ci sia questo allarme, però questo ultimo report di fauna e flora che ha sollevato il problema per la prima volta nel 2020 e da allora ha intensificato lo studio di questa problematica, quest'ultimo report evidenzia alcuni problemi ulteriori, fra cui ad esempio la possibilità che si vadano a intaccare e a rilasciare enormi serbatoi di carbonio che sono custoditi appunto sui fondali marini. Per carbonio si intendono gas contenenti carbonio, quindi azoto o anidride carbonica, insomma gas che rilasciati in atmosfera andrebbero ad aggravare moltissimo la già grave crisi climatica globale. Al momento non esistono regole internazionali chiare sulla deep sea mining, anche se le Nazioni Unite stanno cercando una via condivisa per risolvere questa sorta di controversia, ma non c'è accordo, non c'è minimamente accordo, c'è stato un incontro pensato di durato quasi un mese in Giamaica, a Kingston, durato 24 giorni per la precisione, ma non è stato trovato un accordo. La Cina assieme ad altri paesi guida il fronte del sì all'esplorazione senza regole, ma cresce anche il numero di paesi che chiede una moratoria, una pausa precauzionale, idea lanciata da Vanuatu e Repubblica Dominicana e appoggiata da Cile, Costa Rica, Ecuador, Fiji, Francia, Germania, Micronesia, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Samoa e Spagna. Scusate il lungo elenco, ma non erano poi così tanti ho pensato di leggerle tutte. Comunque alcuni di questi paesi evidentemente lo fanno per mera sopravvivenza, pensiamo alle isole soprattutto che rischiano di restare sommersi da l'innalzamento del livello dei mari, altri sospetto anche per questioni geopolitiche oltre che ambientali, però tant'è. Ok, ma quindi cosa ci dicono questi studi? Ci dicono forse che la mobilità elettrica non è una vera soluzione che è tanto insostenibile quanto quella a base di petrolio? In realtà no. Il punto, come ripetiamo spesso qui su Italia che cambia, è che premesso che non possiamo permetterci di bruciare più niente men che meno il petrolio che serve a far muovere i nostri veicoli e quindi dobbiamo trovare delle soluzioni alternative, non possiamo però pensare di sostituire uno a uno il parco macchine attuali con un parco macchine elettriche per questi motivi qua. Quindi dobbiamo produrre, dobbiamo avere molte meno automobili, dobbiamo ripensare complessivamente il sistema di mobilità, farlo integrato e ridurre drasticamente il numero di veicoli circolanti. A quel punto la mobilità elettrica diventa un'ottima soluzione, altrimenti rischia di diventare l'ennesimo grosso problema. Da questo punto di vista, oltre a dirlo noi e tante altre persone più esperte di noi, a questa conclusione è giunto proprio in questi giorni uno studio appena pubblicato dello European Environmental Bureau dal titolo emblematico rallentare per accelerare perché la mobilità a emissioni nette zero ha bisogno della decrescita. Lo studio prende in considerazione quattro scenari diversi di decarbonizzazione dei trasporti, ciascuno guidato da una narrativa specifica. Il primo è una sostituzione lenta e graduale dei veicoli esistenti, quindi con i motori endotermici, con veicoli elettrici. Il secondo è una rapida e massiccia diffusione dei veicoli elettrici. Il terzo è una mobilità elettrica leggera, quindi oltre a macchine, anche scooter, e-bike, monopattini e così via, e il quarto è una mobilità elettrica abbinata a una forte riduzione dei trasporti. Ecco, la conclusione molto interessante è che solo nell'ultimo scenario, pur con tutte le differenze fra i vari scenari, solo nell'ultimo, quello in cui appunto la mobilità elettrica è abbinata a una forte riduzione dei trasporti, le risorse del pianeta sono sufficienti e non facciamo troppi danni agli ecosistemi nel fare questo passaggio. Va bene, passiamo alla questione carne sintetica, nome, come dicevo, scorretto con cui viene identificata la carne coltivata in laboratorio. In questi giorni sono usciti un numero esagerato di interviste, riflessioni, contributi, in seguito alla decisione del nostro governo di vietare la produzione e l'importazione nel nostro paese. Partiamo proprio dal commentare uno degli ultimi di questi studi, un'intervista abbastanza interessante all'immunologa Antonella Viola sulla svolta. Immunologa che alla domanda della giornalista Costanza Giannelli su quali siano i vantaggi di questo tipo di carne a livello di sostenibilità ambientale risponde, prima di tutto è un prodotto che non prevede la morte degli animali, si può mangiare un filetto di manzo senza che nessuna mucca venga cresciuta in un allevamento intensivo o macellata, poi non inquina mentre la produzione di carne negli allevamenti intensivi causa un grande inquinamento in termini di emissioni di gas, consumo di acqua e di suolo. Allora la giornalista chiede, e dal punto di vista della sicurezza quali sono i pro e i contro per quanto riguarda questo aspetto? Risponde Viola, coltivare la carne in laboratorio significa eliminare gli allevamenti che possono essere un serio rischio di zoonosi, cioè di malattie che passano dagli animali agli esseri umani. Tenere tanti animali insieme, spesso in condizioni di grande affollamento, è un rischio per la diffusione di patogeni che possono poi colpire anche noi. Inoltre la carne che proviene dai laboratori è microbiologicamente pura, cioè non contiene alcun tipo di patogeno che possa provocare infezioni o intossicazioni alimentari. Sugli svantaggi invece, quando gli viene chiesto, risponde solo ad oggi il costo di produzione, ma è sempre così all'inizio di una nuova tecnologia. Quindi è molto favorevole all'introduzione di questa tecnologia. In realtà anche qui a mio avviso la questione è molto più complessa di come viene presentata, ma in generale di come la stanno raccontando quasi tutti i giornali. Sia il fronte del del no, che però esaspera alcuni aspetti soprattutto legati alla salute o, di cui in realtà sappiamo abbastanza poco, o a una sorta di sovranismo alimentare o difesa della lobby degli allevamenti intensivi, sia il fronte del sì che sottovaluta invece tanti altri aspetti. Ad esempio sul fronte della sostenibilità i dati scientifici sono più discordanti di come appare a un'analisi superficiale e se è vero che secondo alcune ricerche la carne in laboratorio ridurrebbe le emissioni di gas serra dell'80-90%, richiederebbe molta meno energia e ridurrebbe del 90% l'impiego di acqua, quindi vista così sembrerebbe quasi una soluzione miracolosa, altre ricerche più recenti suggeriscono che a lungo termine in realtà l'impatto ambientale della carne coltivata in laboratorio potrebbe essere persino superiore a quella del bestiame. Come è possibile? È possibile perché quasi tutti gli studi prendono in considerazione solo il processo produttivo del singolo prodotto, diciamo della singola fettina di carne, se vogliamo vederla così, ma non i costi energetici, tutti quei costi energetici generali di tutta l'infrastruttura, cioè quanto costa il livello di energia ed emissioni, costruire laboratori, tenerli perfettamente sterili, igienizzarli, refrigerarli, quanta energia consuma tutta questa cosa e così via. C'è un articolo scientifico abbastanza recente che vi lascio sempre sotto fonti articoli che suggerisce appunto che sebbene siano stati condotti pochi studi sull'impatto esteso della coltivazione di carne in laboratorio, i suoi costi ambientali potrebbero persino essere superiori rispetto a quella da allevamento, senza considerare i possibili rischi per la salute, su cui appunto come vi dicevo sappiamo poco ma non sappiamo neanche al 100% con estrema sicurezza che questo tipo di produzione non possa avere dei rischi per la salute umana. E poi c'è la questione dei brevetti perché a differenza di buona parte del cibo la carne cresciuta in laboratorio sarebbe strutturalmente appannaggio di poche grandi aziende che potrebbero permettersi appunto l'infrastruttura, i brevetti e così via. Insomma, anche qui, quindi la carne di laboratorio è peggio di quella di allevamento intensivo? Non lo so, cioè non so se è una buona soluzione, se è una soluzione media o se è una pessima soluzione. Di sicuro non è qualcosa che credo, con cui credo sia pensabile di sostituire l'attuale consumo di carne. Può essere, può essere che sia utile in qualche caso specifico. Comunque, credo che questi due esempi, quello delle auto elettriche e quello della carne in laboratorio, siano abbastanza diversi innanzitutto, nel senso che la mobilità elettrica resta sicuramente una base importante, una buona idea, alle condizioni di cui dicevamo prima, per la transizione energetica, mentre sulla carne cresciuta in laboratorio, personalmente, ho molti più dubbi. Al netto di ciò, possiamo cogliere aspetti più generici e più generali. Il primo è che tendiamo a classificare le cose in maniera abbastanza rigida, ingiuste e sbagliate. Abbiamo la sensazione di dover per forza scegliere l'una o l'altra via, ma è, come al solito, un bias. Nello specifico si chiama bias del falso dilemma, cioè, nell'intervista che citavo prima, sulla carne sintetica, ad esempio, si parla di carne in laboratorio come se fosse l'unica alternativa alla carne da allevamento intensivo. E quindi tendiamo a pensare di dover scegliere fra queste due opzioni e ci diciamo, ok, allora forse ha senso perché magari la carne da allevamento è peggio, no? Sulla carne da allevamento, ovviamente, c'è anche una questione etica che riguarda come vengono cresciuti e come vivono gli animali che sono rinchiusi negli allevamenti. Però, per come viene presentata la questione, a volte può sfuggirci che possiamo anche semplicemente ridurre di moltissimo il consumo di carne come società. Insomma, tendiamo a schierarci, a dividere il mondo in due parti, ma la realtà non è fatta così. È un tipo di visione che forse serve più alle nostre esigenze identitarie che a risolvere i problemi. E la risposta giusta, quasi a tutte le domande, è dipende. La seconda considerazione collegata a questa è che viviamo in un mondo caotico e pieno di variabili su cui non abbiamo il minimo controllo. Uno dei problemi principali della nostra società, credo, è che per risolvere i problemi continuiamo a aggiungere nuove variabili su cui abbiamo ancora meno controllo, tipo la carne sintetica. Non sappiamo quasi niente, sappiamo ancora poco, eppure ci puntiamo fortissimo. Pensiamo anche all'intelligenza artificiale, potremmo fare milioni di esempi. Quindi continuiamo ad aggiungere complessità ed entropia al sistema, rendendolo più caotico, più fragile, più difficile da prevedere. E in più maggiori variabili significano anche maggiori probabilità che, in fin dei conti, qualcosa vada storto. Invece, sia nel caso delle auto che della carne, sarebbe, a mio avviso, più utile iniziare a togliere invece che ad aggiungere. Cioè, mangiare molto meno carne, usare molto meno l'auto. Poi, quel poco che rimane, capiamo come produrlo. Per le auto, sicuramente, auto elettriche. Per la carne, vediamo. Comunque, il punto è che dovremmo iniziare un po' ad essere... Mi veniva la metafora della scultura. Dovremmo iniziare a essere scultori della nuova società, non pittori. Cioè, non dobbiamo dipingere la nuova società che abbiamo in mente con altre pennellate aggiunte su una tela già caotica, già incasinata. Dovremmo magari iniziare a far emergere da una sorta di blocco di marmo gigantesco e caotico il profilo di questa nuova società andando a eliminare per setto per pezzetto il superfluo, quello che non ci serve. Ovvio che non è semplice perché, per tante ragioni, ma soprattutto perché in questo sistema economico, sociale, politico in cui viviamo, sistema basato sulla crescita, aggiungendo si crea un business, togliendo non lo si crea. Però, ecco, il sistema economico lo possiamo cambiare, il funzionamento degli ecosistemi non credo proprio. Ieri c'è stata a Villa San Giovanni in Calabria una importante assemblea del movimento No Ponte, movimento che si è rianimato dopo le ultime mosse del governo che, con un decreto, ha riesumato la società stretto di Messina e ha affermato che i cantieri per la costruzione del ponte sullo stretto partiranno a giugno 2024. Affermazione che possiamo prendere con tutte le cautele del caso, ovviamente, anche perché ancora non è stato presentato nessun tipo di piano o di roadmap per la costruzione dell'opera. Comunque, fatto sta che c'è stata questa partecipata assemblea a cui ha preso parte anche la giornalista Tiziana Barillà, che se siete delle persone a modo ricorderete per l'intervento nella bellissima puntata di A Tu Per Tu sulla democrazia. Dico se siete persone a modo perché, se lo ricordate, significa che l'avete vista e se l'avete vista significa che siete abbonati o abbonate a Italia che cambia e vi guardate e ascoltate i nostri podcast. Comunque, Tiziana ci ha inviato un contributo audio in cui ci racconta quello che sta succedendo, dando la parola anche a Peppe Marra, storico attivista No Ponte. A te, Tiziana. Ciao Andrea, sono qua a Villa San Giovanni, dove questa sera si è riunito il movimento No Ponte, quella che fino a qualche anno fa conoscevamo come la rete No Ponte. Questo appuntamento arriva dopo altri due appuntamenti sulla sponda messinese, uno la scorsa settimana a Torre Faro, un'altra a dicembre al Salone delle Bandiere del Palazzo Zanca di Messina e anche questa terza assemblea dei No Ponte è molto molto partecipata. Io qui ho Peppe Marra, che è uno storico militante della rete No Ponte. Ovviamente ci sono un po' tutti quelli con cui 14 anni fa ho marciato e in questi anni abbiamo fatto le cose insieme, ma ho voluto chiedere a Peppe di sintetizzarci un attimo qual è la soddisfazione o in soddisfazione di questa assemblea rispetto a quello che succede e soprattutto qual è l'obiettivo dopo tanti anni di propaganda? Sicuramente soddisfazione di vedere tanta partecipazione. È chiaro che il Ponte è stato sempre un elemento simbolico e aggregante, capace di svegliare un minimo di sussulto di dignità e quindi anche oggi nella riprova. Chiaramente dopo tanti anni continuare a parlare di volte è una grande presa in giro per non usare altri esermini per calabresi e siciliani. Tutta questa operazione messa su dal governo, dal ministro Salvini, sembra più la disperazione di chi non sa come affrontare i problemi di questo territorio. Ci stanno imponendo l'autonomia differenziata, non si parla di risposte concrete a tanti problemi. Noi abbiamo gli uffici comunali e i voti di personale, si campa sulla precarietà, addirittura abbiamo figure, i tirocinanti, gente che da dieci anni fa tirocini nei comuni perché non si dà risposte ai problemi di lavoro. Gli ospedali si chiudono, le scuole sono a rischio crollo e l'unica risposta che ci vengono a dare è il ponte sullo stretto. Non c'è lavoro, facciamo il ponte, non abbiamo strade, facciamo il ponte, mi fa male il piede, facciamo il ponte. Perché è una grande incapacità se non mancanza di volontà. Oggi parliamo soprattutto di questo perché la grande capacità che ha avuto il Movimento No Ponte negli anni è stata quella di rendere evidente attraverso questo mostro del ponte la necessità di indignarsi, di scendere in piazza e di dire tutti quei sì che stanno dietro al grande no al ponte. Grazie Peppe, in attesa di sapere quali saranno i prossimi appuntamenti contro la grande opera della propaganda a breve salutiamo Italia che cambia da Villa San Giovanni. Allora ringraziando ancora Tiziana per il contributo, io direi che noi ci possiamo salutare qua e che ci vediamo domani con una nuova puntata di Io non mi rassegno sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify nonché sulla pagina rassegna stampa telecambia.org ricordatevi che se volete, noi crediamo nel cambiamento quindi se volete diventare delle persone a modo siete ancora in tempo e avete capito quello che intendo per il resto state bene, fate i bravi e ricordatevi che chi si rassegna è perduto. Grazie a tutti.